Il quartiere Ruga ha un nuovo presidente, è Viola Golelli che ci è venuta a trovare in redazione e noi intanto la ringraziamo per essere venuta qua. Viola, allora, la Ruga torna ad avere un presidente donna dopo tanti anni. Raccontaci un po' com'è nata la tua candidatura, come sono andate queste elezioni e che idea hai per il tuo quartiere, il quartiere Ruga. Vi ringrazio intanto di avermi invitato qua. Sì, è vero, dopo tanti anni la Ruga torna ad avere un presidente donna dopo un passato di presidenti ovviamente uomini e di un certo spessore come Gianpaolo che anzi ringrazio per il suo sopporto che mi sta aiutando in questi ultimi giorni. E che dire, è stata una settimana, anzi dieci giorni abbastanza intensi perché abbiamo fatto il nostro primo consiglio subito dopo le elezioni quindi è stato un consiglio diciamo molto produttivo e lo ringrazio soprattutto perché mi stanno dando una mano veramente enorme a coadiuvare e gestire le varie cose e diciamo, siamo molto contenti. Io spero di aiutare il consiglio stesso e non bruciare l'opportunità che il quartiere Ruga e tutto il popolo giallo e blu ci hanno dato e sono molto fiera di questo ruolo, sono sincero. Di cosa ha bisogno il quartiere? Come vi avevo già detto, infatti sicuramente investiremo tanto sul gruppo giovani che sono il nostro futuro e quindi il potere trainante del nostro quartiere e cercheremo di riportare all'interno le vecchie generazioni, se così possiamo dire che si sono smarrite in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni quindi vorremmo investire tanto su di loro. Si parlava di cambiamenti del quartiere ma ci sono andando anche cambiamenti nella Sacra del Tordo, nella festa di Montalcino, cambiamenti che sono attesi noi abbiamo intervistato poco tempo fa Alessandro Nafi ecco, secondo te invece dove deve andare la festa? In che direzione deve andare e cosa deve fare alla fine per tornare anche maggiormente attrattiva per i turisti, per i visitatori ma anche per i montalcinesi? Allora, settimana prossima sicuramente noi presidenti ci ritroveremo per dare una risposta definitiva ad Alessandro Nafi e per quanto riguarda infatti il progetto della fondazione noi per quanto riguarda almeno il quartiere Ruga siamo molto favorevoli a questa fondazione in quanto ci serve per portare avanti quella che è la tradizione della nostra festa ovviamente con qualche rinnovamento che gioverà ovviamente alla festa sia dell'apertura delle cacce che della Sacra del Tordo però senza, come dicevo prima, sconvolgere nulla ma rimanere legati alla tradizione che ci lega a questo paese